È un tema che da anni divide e che schiera due fronti diversi a seconda della sensibilità ambientalista oppure delle esigenze economiche dei territori attraversati dal grande fiume. Perché dragare il Po oppure lasciare lo scorrimento naturale dei sedimenti è un problema ancora molto ben percepito. I dati però parlerebbero chiaro e dicono che il letto del grande fiume da parecchi decenni, invece di alzarsi, si abbassa sempre di più. È un problema complicato perché molti dicono che il fiume quando va in magra si vede che è pieno di sabbia. Certamente è pieno di sabbia, di cosa deve essere pieno? Il fiume deve portare della sabbia, deve portare del limo, altrimenti non avrebbe potuto costruire il piano della padana. È chiaro che quando il fiume va in magra è pieno di sabbia, ma il problema non è quello di dragarlo. Il Po si sta dragando da solo, diventa sempre più profondo. Adesso, negli ultimi tempi, la situazione si è un pochino invertita, si è un pochino attenuata, diciamo. Però, tanto per dire, rispetto al 1951, quando ha rotto il podo Chiobello, il fiume si è abbassato di più di 4 metri in quel punto. In certi punti addirittura di 8 metri. Ma questo grazie anche all'intervento dell'uomo, alle opere dell'uomo? No, no, lo fa da solo. Qualcuno dice che è soprattutto colpa del fatto che viene prelevata la sabbia dal fiume e dai suoi affluenti. Indubbiamente questa è una forte componente. Qualcun altro dice che è colpa dello sbarramento di Isola Serafini. Io dico che non è nemmeno quello, perché il fiume ha questa tendenza anche a monte del sbarramento di Isola Serafini. Per esempio, fra Alessandria e Pavia, il Po si abbassa. Quindi il problema è probabilmente un problema legato e all'attività dell'uomo, che preleva sabbia, diciamo, dagli affluenti più che altro, ma direi anche al cambiamento climatico. È molto probabile che il cambiamento climatico faccia la sua parte. Grazie.